Mi chiamo Claudio Piamarca, ho 40 anni, sono di Roma, faccio lo scrittore, ho scritto sei libri, ho diretto due film e vari cortometraggi e ho in programma di dare alle stampe entro breve un nuovo romanzo e poi un progetto a cui sto lavorando da un anno e mezzo e che vedrà la luce fra un altro anno e mezzo sull'immigrazione. Tra lo scrivere un saggio e lo scrivere un romanzo io non credo che ci sia una grande differenza, soprattutto rispetto alla qualità della scrittura. È chiaro che un saggio presuppone dei tempi molto più larghi che non un romanzo e presuppone spesso un'indagine sul campo che a volte il romanzo non ha. Per mia abitudine io sono un camminatore, sono uno che va a cercarsi delle storie, va a cercare i suoi personaggi in giro per il mondo. Questo lo faccio sia rispetto a un romanzo sia rispetto a un saggio. La cosa importante, almeno per quanto riguarda me, riguardo a un saggio in chiesta, è essere completamente staccati dalla quotidianità. Anche perché facendo così tu riesci a non essere travolto da quello che accade giorno per giorno, ma riesci ad avere un occhio anche storiografico rispetto a quello che devi raccontare. Quindi io lotto in tutte le maniere con i miei editori perché le date di consegna siano sempre elastiche, perché per me non è importante ragionare e lavorare su uno scoop. Per me è importante riuscire a porre delle nuove domande, non tanto dare delle nuove risposte. Per porre nuove domande il cammino può essere anche molto più lungo di quello che uno si era prefissato. Più che un elenco dei miei sei, a quest'oggi sei libri, più vari racconti sparsi per i giornali, riviste letterarie, eccetera, mi piace raccontare una cosa. Io sono partito dalle periferie urbane, per arrivare poi alle periferie urbane di Roma, per arrivare poi a raccontare, a tentare di raccontare le periferie del mondo occidentale. Quindi sono partito da Tiburtino o da Valentino 38 qui a Roma per arrivare fino in Ecuador o a Bangkok. E sono partito dalle nostre misere di noi occidentali per arrivare a raccontare un'altra periferia, un'altra deriva che è la pedofilia. Quindi diciamo che io racconto sempre la stessa storia, racconto sempre una periferia, che sia dell'anima o che sia geografica. La scrittura, la letteratura è politica. Al contempo la letteratura è etica. Noi abbiamo un impegno con noi stessi, prima ancora che con i nostri lettori, che è quello di ragionare su ogni parola, su ogni lettera, su ogni virgola di uno scritto. Perché quella virgola è politica, quella virgola è il messaggio. Il modo di intendere la letteratura è il messaggio. Quindi è chiaro che ci deve essere questo punto di partenza, se no non facciamo scrittura, non facciamo letteratura, non facciamo narrativa. Sporchiamo le pagine. Almeno per quanto riguarda la mia scrittura, è quello di calarsi sempre dentro il personaggio. Chateaubriand diceva che non si racconta altro che il proprio cuore attribuendolo ad un altro. Io cerco di prendermi l'altro cuore e attribuirlo a me stesso. Perché se io riesco a raccontare me stesso, diventato camaleonticamente, un pedofilo, piuttosto che uno stupratore, piuttosto che un ultras di una squadra di calcio, se io riesco a raccontare me stesso, riesco a raccontare una piccola cosa che fa parte di un grande discorso globale. E quindi quella piccola cosa è una particella che si unisce a tutto il mondo. E quindi raccontando me stesso, riesco a raccontare anche quello che c'è dietro un fenomeno. Partendo da me stesso, dalla mia camera, dal mio studio, dalla mia poltrona. La cosa che a me segna è quella di essere sempre fuori tempo. Nel senso che i bambini che ho raccontato io, nei miei libri, sono bambini che io ho conosciuto e che mentre poi li scrivevo e soprattutto quando poi sono stati pubblicati i libri, questi bambini o sono morti, nel frattempo, oppure hanno continuato ad essere vittime della povertà, della fame, della pedofilia, dello sfruttamento sul lavoro. Quindi questo fatto in realtà di tentare di seguire una via etica sulla scrittura, ma poi raccontando persone, anime, che non ci sono più, credo che sia una, non so se è la parola giusta, ma insomma una piccola, grande, profonda colpa che io mi porterò a dirlo per sempre. Perché io do la parola a coloro che non ce l'hanno. O almeno tento di dare la parola a coloro che non l'hanno, però non riesco a dare loro la vita. La legge 269 contro la pedofilia e l'assfruttamento dei minori è innovativa per tanti aspetti. Il più rilevante sicuramente è la perseguibilità della persona che prende materiale tramite internet e soprattutto la perseguibilità della persona che commette un crimine fuori dal paese d'adozione. Cioè se l'italiano commette un crimine in Brasile, il momento in cui io ritorno in Italia, sono incacciato dalle mie forze dell'ordine. Quindi questa legge permette la extraterritorialità del crimine. Questo perché? Perché la pedofilia è un problema transnazionale. Ma questo perché? Perché noi viviamo in un mondo che ama definirsi globalizzato e il crimine è globalizzato. Perché? Perché la fame crea le occasioni per cui io ricco riesca ad avere un rapporto con un bambino. Ma io sono partito da un uso del romanesco, diciamo, di un linguaggio da borgata dal primo libro per tentare di arrivare a un linguaggio assolutamente scevro di qualunque inflessione dialettale e soprattutto un linguaggio che abbia meno aggettivazione possibile. Questo perché? Perché il cammino letterario, il cammino di vita che io ho intrapreso è un cammino fatto all'interno di mondi di dolore. E questo dolore non va raccontato con aggettivi ma per quanto mi riguarda va fatto vedere. L'uso degli aggettivi non farebbe altro che far grondare materia su una materia che ha bisogno invece di essere esaminata e raccontata oggettivamente, quasi sotto il vetrino di un entomologo. Partendo dal presupposto che, a meno per quanto riguarda me, la spinta forte è quella della indignazione, è quella di non vedere il lavoro dello scrittore che non dà la parte del povero. E per andare incontro al povero io devo uscire di casa e raccontarlo. E per raccontarlo non posso usare aggettivi ma devo mettere la mia pagina al servizio delle sue parole che spesso, proprio perché sono persone che mangiano poco, tutto hanno voglia di fare fuorché di infarcire le loro storie, le loro vite di aggettivi, di sostantivi. A volte, quando io parlo con queste persone, a volte io raccolgo solamente dei gesti. A volte non parlano nemmeno con me, a volte ci guardiamo negli occhi. Io ricordo una madre nella giungla del Venezuela che aveva un figlio che non aveva la possibilità di né sentire né parlare. In un mondo in cui nel suo villaggio non c'era accesso all'acqua. Quindi immaginiamo questa persona che vive con questo bambino. Quando io andai, quando lei mi invitò a casa sua, noi siamo stati a pranzo da lei e lei non mi ha raccontato la sua storia, ma mi ha raccontato quanto tempo ci avesse impiegato e che ingredienti avesse usato per preparare quel pranzo. Cernobyl rientrerà sui migranti, sulle emigrazioni. Dalla catastrofe di Cernobyl noi abbiamo ricevuto un grande insegnamento che era quello appunto dell'uso pericoloso delle centrali termonucleari. Però poi noi abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo anche un'altra cosa, una fortissima immigrazione ucraina. Non a caso la stragrande maggioranza della prostituzione in Italia è abitata da prostitute, da donne dell'Ucraina e della Moldavia. E quindi il mio andare a Cernobyl per raccontare una centrale che è saltata e che è stata ricoperta da questo sarcofago che è pieno di crepe, tuttora è pieno di crepe, in realtà poi rivela un altro racconto che è il racconto di persone che vengono fuori da quei campi imbevuti di radiazioni e che mangiano uova di galline che becchettano quell'erba imbevuta di radiazioni e che poi vengono qua a cercare non di rifarsi una vita ma di guadagnare quei pochi soldi che permettano magari di riuscire a pagare le cure mediche del padre che è vittima di quelle radiazioni in un ospedale fatiscente a Kiev piuttosto che in Bielorussia. E quindi il fatto che attraverso la tragedia di Cernobyl noi abbiamo importato della prostituzione la dice lunga su quello che è in realtà l'universo della globalizzazione. La cosa che mi piacerebbe sottolineare è che noi parliamo di globalizzazione non parliamo più di universalizzazione. Negli anni Ottanta si parlava di universalizzazione cioè di universalizzare i diritti che noi in società occidentale eravamo stati in grado di darci. I diritti e i doveri. Adesso si parla di globalizzazione che è semplicemente un meccanismo economico non è un meccanismo morale non è un meccanismo politico è un meccanismo economico. Noi attraverso la globalizzazione importiamo le vittime di Cernobyl con le quali noi maschi occidentali italiani ci andiamo a passare 20 minuti di tempo dandogli 30 mila lire, 15 euro le quali 15 euro andranno a pagare le cure mediche del loro paese.